benvenuti a tutti siamo a marostica nella piazza degli scacchi abbiamo l'arrivo già montato della terza prova di cupa italia nonché sprint race tour le gare saranno valide anche per il latino certamen sarà una gara sprint molto molto veloce con una prima parte nella zona periferica della città un'alternanza di urbano e parchetti per poi entrare dentro la cinta muraria della città dove ci saranno direi gli ultimi 3 4 minuti di gara un pochino più di dislivello ma comunque niente di particolare non accentuato decisamente spettacolare nella parte finale abbiamo un riccardo scalette tra i ragazzi che può fare molto bene in questo tipo di terreno anche giacomo zagonel tra le donne mancherà mancherà lì a patch rider e quindi direi che il pronostico è molto molto aperto lì grazie a tutti